Molteni, che cosa la convince e cosa non la convince delle parole che abbiamo sentito di Alfano? Poi adesso vi rendiamo conto anche di quello che continua a dire il Ministro. Innanzitutto faccio presente che Alfano almeno una volta a settimana arriva in aula a riferire su qualcosa che non funziona nel nostro Paese, sul tema della sicurezza, sul tema dell'immigrazione, sul tema dell'ordine pubblico. Quindi vuol dire che qualcosa che non funziona probabilmente c'è. Noi tra l'altro abbiamo chiesto l'informativa non di Alfano. Le colpe e le responsabilità di Alfano ormai sono appurate e accertate. Noi abbiamo chiesto che fosse il Presidente del Consiglio a prendersi responsabilità e a prendersi carico di spiegare al Paese che cosa è successo. Di spiegare al Paese che cosa è successo a fronte di che cosa? A fronte del fatto che fino all'altro ieri tutti i membri del Governo, dal Presidente del Consiglio, Alfano, alla Pinotti, a Gentiloni, alla stessa Mogherini hanno sempre negato in maniera sistematica e costante il fatto che l'immigrazione clandestina potesse essere uno strumento di veicolo dell'infiltrazione del terrorismo. Hanno sempre negato la circostanza tale per cui il barcone potesse essere uno strumento per portare il terrorista in Italia. Nonostante le avvisaglie che avvenisse esattamente il contrario erano più che rilevanti. Il Ministro dell'Informazione di Tobruk, Libico, lo stesso Segretario Generale della Nato, Stolteberg, proprio l'altro ieri, ha paventato fortemente questo rischio. Quindi un Governo che nega la possibilità di un rischio, pericolo, sicurezza nel nostro Paese. Esattamente. Quindi questo è il primo punto. Questo è il primo punto. La negazione da parte del Governo o la sottovalutazione da parte del Governo e degli esponenti del nostro Governo Governo di un rischio che è un rischio altissimo. Io credo invece che ai cittadini del nostro Paese facciano piacere, oppure no, sapere se sul nostro territorio ci sono terroristi o potenziali terroristi.